Ciao, buongiorno, eccoci dopo la nostra trasmissione, dopo il nostro appuntamento del martedì dedicato ai vinili. Siete stati tantissimi anche quest'oggi, quindi vi ringrazio come sempre, anzi è stato anche interessante perché abbiamo parlato di tantissime cose e naturalmente siamo andati anche a parlare di musica. Lo scorso martedì avevamo lanciato il tema anche del naturismo e della musica, io sono andata a cercare un po' di vinili e devo dire la verità, ho avuto un po' di difficoltà ma ho sicuramente trovato questo, che tra l'altro andiamo anche a togliere proprio dal piatto e come vedete insomma è Vinicio Capostela, è la sua modi, è uno dei brani, uno del secondo album di cui lui insomma ha ottenuto grande successo e perché ho scelto questo? Perché come vedete dalla copertina è in qualche modo la donna che viene rappresentata e diciamo così rappresentata nella sua bellezza, nel suo corpo. Tra l'altro un album che già dal nome Modi vuole un po' significare maledetto, quindi Modi in francese, ma anche un omaggio a Modigliani. Quindi detto questo, insomma poi voi in qualche modo avete un po' cercato di darmi qualche suggerimento come ha fatto Peter che mi ha detto di guardare insomma i video, io non me li ricordavo, di Elisa, di Event Out, oppure Elis Morissette Thank You o ancora The Loves With Harmony, insomma video in cui appunto la bellezza femminile non solo viene lasciata così in tutta la sua interezza. Ci siamo poi posti il problema se questi video venivano realizzati per diciamo così creare un personaggio o semplicemente perché proprio credevano nell'arte e quindi nella naturalezza dell'arte. Insomma abbiamo iniziato un po' chiacchierare e come sempre poi però il tempo è scaduto e non avevamo più tempo a nostra disposizione e così abbiamo, ci siamo dati nuovamente appuntamento a martedì prossimo come sempre alle 9 per un'altra giornata dedicata ai venini e non solo. Una cosa molto interessante che poi è uscita fuori, vabbè si è parlato di Woodstock perché allora c'era la libertà, la libertà nell'espressione, nell'essere se stessi, questa libertà che forse era una libertà voluta e cercata ma che in realtà allora non c'erano agli anni 60 e 70 e poi insomma sono state uscite fuori delle cose curiose che io non sapevo come ad esempio Caravenna il sindaco nel 2017 fece fare un festival naturista di 4 giorni, poi però non si sa più niente ma a parte questo insomma questo come tanti altri luoghi hanno suscitato comunque tanto interesse. Sì, abbiamo deciso di approfondire l'argomento venerdì sera su Patreon alle 22 su Simona Non Solo Radio ma martedì prossimo continueremo a parlarne. Come sempre io vi ricordo di mandare una mail a imhlib1.it per raccontarmi di questi ed altri diciamo così argomenti di cui vorreste trattare nel nostro martedì mattina legati come sempre, mi raccomando, alla musica. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, un grande bacio, ci ritroviamo martedì su YouTube e venerdì sera alle 22 su Simona Non Solo Radio ovvero Patreon. Ciao! Ciao!